Simone Calvano, possiamo dire che era una sorta di promesso sposo del Teno perché il tuo nome è circolato per diverse sessioni di mercato? Beh sì, già a gennaio dell'anno scorso mi ero sentito con la società che voleva prendermi e ho preferito comunque concludere l'anno a Pistoia per poi ritrovarci qui a luglio, poi sono venuto qui appunto perché la società mi voleva già da gennaio, poi ci siamo continuati a sentire e quindi ora sono qui e speriamo di fare bene. Quali sono le tue caratteristiche? Io sono una mezzala che sa difendere, sa anche all'occorrenza attaccare, poi il mister ho visto subito nei primi giorni che vuole molta corsa da parte nostra e quindi quest'anno ci sarà da divertirsi. Non è la tua prima esperienza in Abruzzo perché hai già giocato a Lanciano? Sì, ho fatto sei mesi a Lanciano dove ho trovato poco spazio ma appunto per questo sono ancora più motivato per riuscire a completare comunque un campionato importante come la Serie B. Per gran parte dello scorso campionato era la Pistoiese, la squadra, aver dato la punizione più pesante sul campo al Teramo. Quanti di questi giocatori conosci? Vabbè, loro li conosco quasi tutti perché comunque l'anno scorso eravamo nello stesso giro del nostro e vabbè l'anno scorso poi dopo il 4-1 a Pistoia mi sembra che non l'hanno più perso perciò... Poi Prato. Poi sì, Prato e gli è andata male ma nello stesso tempo è andata bene, hanno fatto un campionato perfetto e ora siamo qua a sperare di giocarci la Serie B. Senti, chiaramente l'esperienza di Lanciano ti ha visto poco protagonista ed è inevitabile, ora la B a Bruzzese a Teramo assume ben alti connotati per te, è una grande opportunità. No, sì, beh, questo sì. A Lanciano ho avuto appunto, ripeto, poco spazio per dimostrare quelle che sono le mie qualità. Spero che qui quest'anno riuscirò a dare una mano alla squadra per raggiungere un obiettivo che tutti ci siamo prefissati.